Presidente Guzzetti, a lei la parola che avrà un po' il compito di raccogliere un po' tutto quello che nella mattinata è emerso e di trovare una possibile sintesi per i prossimi giorni, per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio CGM per avermi invitato anche a questa vostra riunione, ormai è un appuntamento che forse possiamo dire consueto, ma io vengo molto volentieri ai vostri incontri perché qui si discute, si tirano fuori le idee, si guarda al futuro, vivendo una quotidianità nel vivo delle nostre comunità, delle nostre realtà sociali, si in qualche modo, come è anche stato detto questa mattina, si è costretti a non rassegnarsi, ma voi avete un di più, forse un DNA specifico, su questo punto non si rassegna essere erogatori di servizi o svolgere certe attività di carattere sociale, ma si cerca di, attraverso le esperienze quotidiane, di portare un po' più avanti il traguardo del modo come dare queste risposte, di pensare al futuro, quindi questo mi pare la cosa importante che caratterizza la vostra organizzazione di cui vi sono grato, per cui è interessante, il dialogo diventa un dialogo molto proficuo rispetto al futuro. Io per la verità vi devo dire che ero venuto qui pensando di dover riparlare di occupazione, gli over 50, gli over 35, poi invece questa mattina ho visto che in realtà il dibattito dall'introduzione del professor Magatti e dall'intervento del dottor Gori, ma io sono grato che butto via l'intervento sull'occupazione e parlo dei problemi che il professor Magatti e Gori hanno affrontato. Questo problema del welfare. Noi abbiamo consapevolezza assolutamente consolidata e chi non avesse questa consapevolezza si affretti ad acquisirla, che il welfare come l'abbiamo avuto negli anni passati, vi ricordate quella della culla alla barra? Non c'è più. Qui non c'è più intervento né per la culla né per la barra se andiamo avanti su questa strada. Quindi la consapevolezza che il welfare non c'è più. Ma i bisogni sociali ci sono, anzi aumentano. Pensate al problema dell'immigrazione con tutti i problemi sociali che comportano il nostro paese. Pensate al problema delle persone a rischio di esclusione sociale. Sono fatti esempi delle carceri, di cosa accade nelle carceri, eccetera. Questi sono interventi positivi, ma c'è tutto il negativo che sta nelle carceri, che continuamente sappiamo a partire dai suicidi, venendo via via alla violenza. Allora, quello welfare non c'è più, i bisogni aumentano e non si può o continuare a protestare invocando un welfare che non tornerà più. Ma non solo e non tanto per le risorse, anche perché ci sono oggi all'interno del vasto mondo dei bisogni sociali, tanti bisogni che richiedono delle risposte molto diverse, molto più puntuali rispetto a quello che siamo abituati nel parlare in fondo. Magatti ha parlato di innovazione dei servizi, Gori ha parlato di innovazione degli interventi, quindi è la parola innovazione che viene in evidente. Ma lo lascio per ultimo, anche se dovrei parlarne per primo. Noi, come fondazioni, siamo quelli più esposti in questo momento, perché non ci sono più risorse pubbliche. Si pensa che noi abbiamo tantissime risorse, ne abbiamo tante, certo, perché negarlo che Fondazione Cariplo oscilla fra i 170 e i 200 milioni di erogazioni all'anno. Ma erogazione Cariplo ha un'intera regione, Carazza di regione, due province del Piemonte, interveniamo nei paesi in via di sviluppo. Se non ci fosse Roma, ma non voglio parlare di Roma, no, per l'amor di Dio, che ci sollecita per certi interventi, quindi interveniamo in tutta Italia. Noi stiamo riflettendo, perché oggi le nostre fondazioni sono quelle più esposte ad una richiesta di risorse, ma anche di modo di concepire il rapporto fra noi e voi. E quindi da qualche tempo noi stiamo riflettendo su questo tema dell'Uelfa. Intanto condivido, ma darò anche un'indicazione precisa, per non fare solo considerazioni, parole che lasciano un tempo importante, ma la prima affermazione che bisogna fare con grande nettezza, in uno sforzo che si vede tutti uniti, è che senza risorse pubbliche non c'è risposta ai bisogni sociali nel nostro paese. Questo va detto, perché il tentativo, l'alibi, mi pare ne accennava Gori, no, non abbiamo più soldi, volontariato, fondazioni, nel volontariato c'è dentro tutto, pensano loro. E scaricano, per poi polemizzare che non si è in grado di dare questa risposta, scaricano su queste realtà delle responsabilità che noi non possiamo avere. Ma, qual è il dato? Non è vero, dottor Gori, che non ci sono risorse pubbliche. È vero che in questo paese sociale è marginale come risorse pubbliche, quindi tutte le polemiche che si fanno bisognerebbe ricacciargliele indietro con molte perdite nei confronti di questa gente, no, che anche qui è un alibi. Le risorse ci sono. Noi stiamo sostenendo una ricerca, che è una seconda fase del professor Ranci Ortigosa, che sta andando ad identificare nel bilancio dello Stato, e lui mi ha detto così indicativamente che le risorse sono tante, non sono poche, sono poche nella... Ma, aspetta, perché? Voglio dire, se queste risorse pubbliche, destinate alla povertà, alla famiglia, a questi bisogni sociali, nel bilancio dello Stato, chi li spende e come si spende? Si spendono a Roma, si spendono male, si sperperano, si danno nei confronti le famiglie soldi a famiglie che non hanno bisogno e non si danno soldi alle famiglie che hanno bisogno. Quindi cominciamo, nel nuovo welfare, a fissare questo punto. Dobbiamo assolutamente identificare queste risorse, cercare di non farle tagliare come le hanno tagliate prima il governo Berlusconi e anche il governo, caro, che a me è poverino, tutti in questo paese, scusate se faccio questa digressione che è fuori tema, ma forse non tanto, ma questo governo che ha ereditato la lettera sua a Bruxelles, qual è il potere che ha nelle mani? Ma si parla di sovranità. Ha il potere di cercare di difendersi sulla frontiera della spesa pubblica per non incorrere in una situazione ancora più grave e drammatica dove arrivano i tre della Troica, come sono in Grecia, a dirci che cosa deve fare, riempiamo, ed è una fortuna che questo paese fin qui abbia retto, no? Quindi vi addebitiamo, certo si potrebbero fare tante altre cose, ma chiusa la parentesi, riflettete voi che siete intelligenti su questo breve accenno. Allora, le risorse pubbliche ci devono essere. Noi delle fondazioni stiamo riflettendo su un altro aspetto di questo welfare. La solidarietà, qui siamo, potremmo dire, nella casa della solidarietà, quindi io non spendo parole. Ma vogliamo tentare, sarà utopico, ma dalle utopie sono nati i cambiamenti. Chi non era utopico non ha cambiato il mondo. Pensate, quando Einstein ha tirato fuori che c'era tutto un'altra formuletta, no? Allora, riscopriamo il valore della comunità. La comunità, io credo, può essere la dimensione dal punto di vista territoriale e dal punto di vista di appartenenza ad una comunità locale. La comunità, a mio parere, può essere la nuova dimensione della welfare. Distruggiamo l'welfare statale che sperpera risorse e ci lascia in queste condizioni. Ma la comunità, anche perché io sostengo, e stiamo approfondendo questo aspetto, perché, legato alla dimensione di comunità, a nostro avviso, può darci che siamo degli utopisti e non andiamo da nessuna parte, non andremo da nessuna parte, ai soldi delle fondazioni, al volontariato, all'welfare aziendale, che dottor Gori non è marginale. Contratti nazionali che reintroducono l'welfare e contratti aziendali che in alcune realtà territoriali danno risposte a una serie di bisogni sociali, certo, dei figli o dei padri, dei nonni, gli anziani di questi dipendenti. Però non sono trascurabili, no? Io mi rifiuto di credere che se noi approfondiamo un welfare di comunità, perché la comunità è un elemento di identità. Qui c'è il professor Magatti che è comasco come il sottoscritto. Io sono comasco, non sono un padano, eh, chiaro. Sono comasco. Ma vivo in un paese che si chiama Piano Gentile, che è in una realtà della pianese e dell'olgiatese, sono tutti comaschi, l'olgiatese, l'erbese, il canturino, i laghe, cioè sono quelli del lago che stanno in alto, sempre due, Magatti, no? Sempre due, un po' indietro, invece altro che indietro. Allora, io mi rifiuto di credere che la solidarietà che noi diamo a migliaia e migliaia di chilometri, quando avviene un evento fisico, naturale, gli tsunami, Haiti, la solidarietà che andiamo in giro per tutto il mondo, per fortuna, a spargere larghe mani. Io mi rifiuto di credere che un welfare di comunità, in un ambito di comunità che si identifica, non mobiliti anche risorse dei cittadini. Perché? se i miei 22 comuni della Pianese e dell'Olgiatese elaborano un piano di risposta ai bisogni degli anziani, dell'Andica, delle persone a rischio sociale, io da un po' di tempo sono fortemente preoccupato del problema dell'infanzia negata nelle nostre comunità, un fenomeno che ogni tanto riaffiora qua e là, ma bisogna andare a scoprire i dati. La nostra provincia, Castiglioni, il presidente della Fondazione Comunità la sta facendo un'indagine, mi dà dei dati che io mi impressiono, perché la provincia di Comune, la provincia è ancora compatta, la famiglia, tutte queste cose importanti, no? Ecco, allora, a quest'ora credo che siete anche in quella difficoltà lì di reggere l'equilibrio fisico, no? E poi avete passato tutta la mattina. Ecco, dottor Gori, io credo che se a tutte queste cose ci aggiungiamo sul punto di scoprire una dimensione di welfare comunitario che in una realtà può essere provinciale, in un'altra realtà può essere subprovinciale. Perché l'esperimento che la nostra fondazione ha fatto in questi anni delle fondazioni comunitarie ha avuto un successo? E noi non siamo mica andati in giro a dire che gli davamo i soldi, certo che gli davamo i soldi, siamo andati in giro a chiedere i soldi. Abbiamo chiesto queste fondazioni comunitarie e 13 su 15 hanno raggiunto la sfida di raccogliere milioni e le hanno raccolti. perché quella gente ha capito che era una dimensione vicina, era una dimensione che potevano controllare, che quando facevano i bandi per erogare queste somme, le tv locali, i giornali, rendevano conto e quindi i loro soldi sapevano dove erano andati. Allora io credo che un approfondimento sul tema generale del welfare da questo punto di vista potrebbe essere interessante. Se è utopico o non è interessante, pazienza, vi ho fatto perdere un po' di tempo. Ma sull'overfare io condivido totalmente le cose che hanno detto il professor Maganti e il dottor Gori. Questo della innovazione. Perché dal punto di vista a non parlare d'altro dei costi perché noi siamo un welfare abitudinario. Fino a qualche anno fa io do merito soluto alla cooperazione sociale di aver cominciato ad affrontare questi temi. L'anziano una bella casa di riposo messo lì tranquillo andiamo a visitare papà cioè il figlio nipote una volta alla settimana abbiamo soddisfatto la nostra coscienza che teniamo il rapporto con il nostro nonno che già sempre no in questi anni la cooperazione sociale a questo punto dell'innovazione del come erogare i servizi forse costretta dai costi forse anche soprattutto da una riflessione di carattere culturale legata ad aspetti le nuove tecnologie i nuovi strumenti la ricerca sulla sanità quello che la nostra fondazione lei ha parlato di ricerca noi sulla ricerca mettiamo un sacco di soldi metto una parentesi proprio per non deludere il tema dell'occupazione noi abbiamo un programma di finanziamento dei materiali cosiddetti avanzati perché oggi la sfida anche qui ma come fate a immaginare una regione come la Lombardia senza il manufatturiero ancora per molti anni io mi ricordo quando facevo un altro mestiere che mi avevano spiegato era il momento del disastro dei grandi comparti la chimica no? io ero presente della regione e naturalmente ogni giorno chiudevano grandi settori che sono scomparsi appunto e mi spiegavano che il terziario avanzato è la finanza e il futuro della Lombardia io tra me che sono comasco per la miseria scusate la miseria il tessile i mobili di Cantù la galvanica e quella roba lì dell'erbese e dell'ecchese ma con che cosa sostituiscono queste attività ma il problema è che noi l'occupazione l'avremo ancora dal manifatturiero ma cosa ci vuole? la ricerca i materiali avanzati per cui i mobilieri quelli che fanno le robe in ferro eccetera con questi materiali che pesano un decimo costano meno la ricerca passa dappertutto tanto è vero che in questo momento di grandi crisi nella nostra provincia il tessile regge con quelle aziende che hanno fatto innovazione e che oggi alla faccia di tutte le crisi esportano alla grande quindi chiuso la parentesi a proposito di occupazione ma torniamo a questo problema dell'innovazione del welfare noi siamo assolutamente d'accordo ma in questi anni e cerco di ricorre la conclusione voi è il 25esimo anno noi siamo al 22 siamo anche in fase di bilancio perché tra qualche mese troverete altri protagonisti sulla scena della nostra fondazione che noi stiamo facendo qualche bilancio e noi in questi anni premetto qui c'è anche in sala uno degli amministratori dei membri della CCB Mario Anghinone lo può dire lo può confermare perché noi la CCB è attiva non è che c'è il padre padrone poi la CCB sono tutti portatori di borse magari no magari no perché sono contento che ci tengano allegri ma noi in questi anni abbiamo cercato di fare questo sforzo il merito dicevo non è del presidente Brotempo se il presidente Brotempo è uno scemo quando capisce che certe proposte che gli vengono fatte sono cose importanti innovative le sostiene anche resistendo a dei tentativi di rimanere nel tradizionale nell'usuale facciamo ma no perché dobbiamo innovare perché dobbiamo fare questo progetto sull'inserimento lavorativo dei malati psichiatrici che ci costa un sacco di soldi abbiamo un coach come li chiamano per ogni ammalato perché lo facciamo quest'anno è finito e stiamo verificando perché se scoprissimo come noi abbiamo pensato quando l'abbiamo lanciato che quel tipo di cura dei malati psichiatrici avrà un esito positivo questa è la cosa importante offriamo alle pubbliche istituzioni partite dalla regione che invece avere i centri assistenza spendere un sacco di soldi inutilmente lì si risparmiano soldi pubblici e si dà una risposta puntuale a uno dei drammi più pesanti in Lombardia 110.000 malati psichiatrici quelle ufficiali perché molti poi è chiaro che non lo dichiarano ecco questo che abbiamo fatto in questi anni ci siamo sforzati attraverso l'attività i nostri bandi grazie a persone che ci lavorano noi abbiamo la fortuna di avere devo dire che lavorano come matti perché avere 55 dipendenti a mandare avanti una baracca come la nostra perché sono motivati qualcuno che è catturato dal mercato dice no guardi lei mi dà di più ma io preferisco stare in carico perché lì mi diverto no 38 anni di media per lo più donne perché quando noi facciamo la selezione perché lì non si raccomanda nessuno le donne sono più bravi degli uomini quando facciamo la selezione ma io sono contentissimo abbiamo qualche problema quando avevamo 4-5 maternità ma questi sono problemi grassi come si dice si sopperiscono no bene noi in questi anni abbiamo cercato di muoverci in questa direzione cioè di affinare sempre più la nostra attività erogativa che non fosse solo dar via dei soldi ma sforzandoci da un lato di identificare quali erano le visioni primari ma anche non dare una risposta virgolette tradizionale capite cosa dice quello degli anziani è paradigmatico no di metterle ecco io credo che in questi anni ci siamo sforzati di fare questo lavoro così come devo dire abbiamo fatto un'altra cosa spero che chi di voi è venuto in contatto con le nostre fondazioni possa dare una una valutazione per esempio il bando più volte riaggiustato di sostenere le associazioni che operano nel sociale noi abbiamo un bando perché perché è importante voi siete non lo dico per blandirvi magari mi approvodite anche siete l'elite ma noi abbiamo in giro io continuo dove mi arrabbio con barbetta scendendo giù per gli rami no dico dovete tirar dietro quelli che naturalmente non sono a livello come voi che siete strutturati capaci tutto benissimo il piano economico finanziario senza il quale soldi la fondazione carico non si prendono è ben fatto la proiezione la prospettiva ma dobbiamo far tirare dietro sto volontariato sto terzo dobbiamo rafforzarlo ecco questo bando è stato un bando a mio avviso molto importante e infine e vorrei chiudere perché siccome qui di occupazione di sociale si parlava vorrei anche dire che io concordo a parte concordo totalmente che senza una società delle comunità socialmente coese non si va da nessuna parte perché lo sviluppo l'occupazione ma se c'è una comunità sfasciata non c'è occupazione che tenga avrai magari un po' più di occupazione avrai disastri del disagio giovanile che fanno le cose che fanno in giro però anche da questo punto di vista noi abbiamo visto abbiamo fatto alcune cose per esempio per i giovani che all'inizio uno in particolare quello dell'Ettro io sono un appassionato di teatro il teatro lì piccolo teatro insomma no quando sono venuti questa roba dell'Ettro ho detto ma tra mai e meno mi sono guardato bene al dirlo a Rebaglio ho detto ma che scrive una famiglia di Daniele ma abbiamo scoperto una realtà di occupazione giovanile che loro il Rebaglio che aveva contato aveva capito che lì c'era una possibilità di togliere i giovani o molti giovani dai guai di fare delle cose qualitativamente e di dare occupazione abbiamo scoperto che in Lombardia ci sono compagnie teatrali ma non che perdono il tempo la sera a fare stupidate fanno una stagione talvolta vanno all'estero a fare queste rappresentazioni ma erano slegate non avevano la sede avevano la sede poi li cacciavano via li sfrattavano si sfasciavano oggi il progetto Etre ha partorito un'associazione Etre perché voi lo sappiate vuol dire residenze teatrali che sono esperienze che in Francia soprattutto hanno anni di consolidamento quindi anche guardarsi intorno e vedere ci si è data occupazione ci si è data tranquillità possibilità di sviluppo e gente che va a vedere il teatro io dico sempre che uno se va a teatro ascolta le musiche magari una musica mi dà fastidio perché fa fracassi ma per i giovani è quella lì la musica se fanno quelle robe lì non fanno altre cose più adesso e chiudo veramente abbiamo inventato questa delle imprese giovanili culturali che cos'è questa? poi sette fondazioni in giro per l'Italia quando hanno visto perché io diffondo bisogna collaborare integrare reti mica reti hanno visto questa roba si sono aggregati loro mi danno 50 mila euro all'anno io e me purtroppo ne metto due metto due milioni di euro ma va bene così in giro per l'Italia cioè noi vogliamo nel mondo della cultura delle attività culturali si possono realizzare imprese giovanili che fanno queste attività con una dimensione imprenditoriale che è quello che fate anche voi quindi io qui parlo a della gente che dice vabbè dai tagliala sui perché ormai sei anche un po' stufato a raccontarci cose che noi facciamo da anni però questa è una roba importante ultimo questa roba dell'housing sociale ma lo sapete che otto anni fa in Italia l'edilizia sociale guardate che non è l'edilizia popolare non è quelle robe che tutti dicono no l'edilizia sociale è un'edilizia privata che sta in mezzo all'edilizia pubblica che non ha più soldi quindi non c'è più l'edilizia privata che costruisce e non vende e non affitta più perché i prezzi sono fuori della portata di fasce sociali nel nostro paese i due giovani che si sposano l'anziano l'immigrato il giovane professionista che iniziando la professione non costruisce più la casa come ho fatto io facendo un mutuo con la Cariplo dopo due anni che facevo l'avvocato no non sono più in grado neanche di affittare questo piano di edilizia sociale che oggi ha trovato i finanziamenti ci sono le aree ci sono gli interventi la cosa ieri il Corriere della Sera io mi sono rammaricato perché hanno fatto un articolo citando lei deve citare Urbani Sergio che è l'inventore dell'edilizia sociale in Italia non Giuseppe Guzzetti che quando ha capito che Urbani gli raccontava delle cose allora si è mobilitato a Roma a fare queste cose bene sono stato confuso sconclusionato non so normalmente i generosi sono anche ottimisti nella vita normalmente non so con quale spirito siete entrati in questa sala pensando ai vostri problemi alle vostre difficoltà al futuro i quattrini tutti gli inciampi gli impicci magari avevate anche un po' di pessimismo un po' così bene io vi dico che questo paese non negli esempi drammatici negativi che viviamo in questi giorni anche in questa nostra regione non questi esempi a Milano a Roma in giro per tutta l'Italia ma il futuro la speranza l'entusiasmo l'ottimismo che dobbiamo avere e che comunque le forze sane che voi rappresentate che tanti rappresenteranno vinceranno la sfida di questo paese che a ciascuno che qui vive possa veramente sentirsi realizzato che è la coesione sociale e voi siete una componente importante di questo obiettivo che noi nonostante tutto non vogliamo mollare grazie grazie presidente ringraziamo e direi che ringraziamo la ricchezza veramente la ricchezza di questa mattinata per i contributi che sono arrivati ma io credo che l'appello finale fatto dal presidente e si capisce dall'applauso lo condividiamo pienamente ci stiamo in questa partita ce la giocheremo fino in fondo insomma grazie ancora grazie grazie ciao un secondo solo per alcuni avvisi organizzativi ora c'è il momento del pranzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti